Un turno infrasettimanale da sorprese, non ci sono partitissime ma trappole. L'Inter giovedì giocherà a Parma contro un avversario disperato. Il Milan, senza Ibrahimovic e Cialanoglu, sarà alle prese con un Udinese in crescita. L'Atalanta affronterà il Crotone passato a Cosmi e la Juve stasera il pericoloso Spezia che presenterà Nzolà. La Champions si avvicina. Ronaldo ha un gol da Pelé. Per il Napoli con Mertens ma senza Coulibaly, sul campo del Sassuolo difficoltà contro un avversario che vince a San Paolo. Delle Romane, la squadra giallorossa a Firenze per riconquistare il terzo posto e la Lazio ferma perché il Torino non giocherà a causa Covid. Il derby genovese sarà una partita stimolante ma da mezza classifica, destro e quagliarella di punta. Nella zona centrale il Benevento contro il Verona per riprendere la marcia. Impresa difficile. Per la salvezza è importante il test del Cagliari di Semplici contro un Bologna in forma. Sabato ricominceranno le partitissime. Grazie a tutti.